Sono incapace di intenerirmi per i vegetali, non crederò mai che l'anima degli dèi abiti nelle piante e anche se vi abitasse me ne importerebbe ben poco e attribuirei alla mia un valore ben più alto di quella dei legumi santificati. Courbet, un formidabile pittore dotato di una indomita e paziente volontà che mi ha consentito di raggiungere dei risultati che per alcuni erbiti hanno un fascino maggiore di quelli conseguiti dal grande maestro della tradizione raffaellesca. Tuttavia la differenza sta nel fatto che mentre il sacrificio eroico di Ingres si consuma in onore della tradizione e dell'ideale raffaellesco di bellezza quello di Courbet, si compie a vantaggio della natura esteriore, positiva, immediata. Nella loro lotta all'immaginazione obbediscono a impulsi diversi e i due opposti fanatismi li conducono allo stesso tipo di immolazione. Charles Baudelaire su Jean Véziré Vistard Courbet